ANSA, Roma, 7-8, le qualifiche sono state piuttosto buone, sono abbastanza soddisfatto. Sebastian Vettel sintetizza così la sua prestazione nelle qualifiche del GP del Giappone. Avrei voluto essere più veloce, aggiunge il tedesco della Ferrari, sapevo che Valtteri mi aveva superato ma partirò in prima fila grazie alla sua penalità. La nostra macchina dovrebbe andare meglio in gara, aggiunge il pilota della Ferrari Sebastian Vettel dopo le qualifiche del GP del Giappone, il gap con le Mercedes, era grande e mi mancava un po' di bilanciamento. Domani partirò dalla prima fila e vedremo. Pensiamo di poter stare insieme a loro, e vediamo cosa riusciamo a fare.